mister bell'arte dopo il cappò di napoli l'occasione del pronto riscatto nel super derby come si avvicina la sua squadra a questa partitissima non ho mai considerato una sconfitta come qualcosa di irreparabile quindi non è il derby piuttosto che una partita importante che mi permette di motivare la squadra o di portare la squadra a un livello di concentrazione alto per recuperare quello che abbiamo perso comunque per mia natura cerco di muovere la squadra e muoverla verso un obiettivo poi ci sono dei passi falsi o degli ostacoli a superare durante questo cammino e questo lo si sa già quindi come si dice a Bari che il cavallo buono si vede in salita quindi cerchiamo adesso di vedere di che pasta sono fatti i giocatori di che pasta sono fatto io e di che pasta è fatta la società tutta a Bari si dice che il cavallo buono si vede in salita da altre parti tipo Pescara Montesilvano e Città Sant'Angelo si dice che il cavallo buono si vede all'arrivo che arriverà prima tra Pescara e Acqua e Sapone beh se lo sapessi certo non stare qui con te ma sarei già in vacanza in Hawaii perché avrei vinto il Superanaro 8 quindi non penso sia questa la mia preoccupazione il senso di scoprirlo adesso certo vorrei scoprirlo alla fine quindi significherebbe che non sono stato esonerato però vogliamo dire che in un campionato altamente competitivo come quello di quest'anno le due abruzzesi sono le più serie candidate allo scudetto oppure no scaramanzia a parte no certo sì perché comunque il Pescara ha fatto un mercato di tutto rispetto credo che la cosa buona si sia messa alla Bari per giocarsela per comunque restare in vetta e quindi avere la possibilità di vincere il titolo poi c'è Lasti che secondo me è una squadra che ha guadagnato in equilibrio con Wilkem e quindi su impiantato su un roster che era già esaltante dal mio punto di vista quindi credo sia la più serie candidata allo scudetto poi non dimentichiamo che c'è la luparenze di Colini che è l'allenatore che ha vinto di più italiano che ha vinto di più quindi già questo dovrebbe essere una garanzia poi ha un gruppo solido formato perciò le candidate sono tante così come tutte le altre del top 10 possono vincere contro chiunque lo si è visto sabato scorso con la prestazione del Napoli lo si è visto anche con il Martina che Danio Promossa sta comunque facendo un buon campionato quindi in realtà non è questa la disanima che bisognerebbe fare perché comunque l'acqua e sapone sì è un roster rispettabilissimo che può giocarsela contro chiunque ossia è stato costruito per giocarsela alla pari contro tutti quindi è normale che gli obiettivi sono i titoli che poi non possono venire tutti questo dovrebbe essere una cosa almeno chiara poi che possono venire tutti questa dovrebbe essere la speranza mia come di tutti quanti. A proposito di innesti ai quali faceva riferimento in altre compagini a che punto siamo con l'innesto del nucleo Montesilvano nel precedente impianto dell'acqua e sapone e quali margini di miglioramento ci sono ancora? Io ho cercato di vedere il nucleo Montesilvano solo sull'almanacco o sull'almanacco ipotetico che non c'è perché ho cercato di pensare i giocatori che sono venuti da Montesilvano come Rescia che è venuto dalla Gogianco come Gea che è venuto dalla Osta come giocatori nuovi che dovevano impiantarsi in un gruppo collaudato quindi non ho visto che venivano da Montesilvano non ho visto che avevano vinto più di me che avevano giocato partite di alta competizione forse anzi sicuramente più di me quindi in realtà questo è tutto nuovo per loro che per me perché comunque noi avevamo avuto risultati esaltanti sia l'anno scorso che due anni fa con il gruppo storico quindi abbiamo dovuto cancellare tutto sia per quel che riguarda il gruppo storico sia per quel che riguarda i nuovi per ricominciare qualcosa di nuovo e spero esaltante quanto quello precedente. Tornando al derby qualcuno presenta questa sfida come la contrapposizione tra la samba brasiliana dei vari Foglia, Dudu e Duarte al tango argentino dei vari Rescia, Cuzzolino e Borruto è riduttiva come presentazione? Beh se ci mettiamo pure la tarantella italiana o il ballo del Baresi sarebbe meglio però credo che... Ma Marella non vorrebbe sicuramente il ballo del Quacquac così come Barigelli? Beh certo assolutamente sì concordo, il ballo della Cozza Velosa sarebbe una cosa inguardabile però credo che comunque sia riduttivo perché gli allenatori sono italiani quindi l'impianto dovrebbe essere italiano sia per quel che riguarda il Pescara che per quel che riguarda l'acqua e sapone. Poi che gli argentini qui siano in minoranza non vuol dire che magari si ascolta più samba che è tango argentino, alle volte non ascoltiamo musica quindi cerchiamo di farla in campo la musica. A proposito degli avversari non le chiedo i punti deboli perché sicuramente non ce li dirà qualora pensa che ne abbia la squadra di Patriarca, le chiedo i punti di forza. Beh i punti di forza aspettiamo poi fino a stasera per terminare perché comunque ce ne sono così tanti che sarebbe pure riduttivo elencarne qualcuno, io credo che il roster sia un roster molto molto importante, Nicolò Gio e Morgato che sono rimasti con tutti quelli che sono arrivati fanno del Pescara una grandissima squadra, dovrebbe essere una squadra che con un po' di equilibrio dovrebbe essere la squadra da abbattere per tutti. Piccola parentesi di carattere personale, Nuccorini ha indicato Mr. Bellarte come uno dei papabili alla prossima panchina azzurra e più che uno dei papabili il candidato principale. Credo che comunque un attestato di stima da parte di colui che ritengo il più profondo conoscitore di questo sport, almeno nella penisola italiana, sia qualcosa che dà stimolo per continuare, per continuare su questa strada che ho deciso di intraprendere quando ho deciso di prendere questa come follia o questa follia come la mia professione, credo che però come Nuccorini ha evidenziato se si dovesse individuare un candidato per meriti questo dovrebbe essere Fulvio Colini perché è l'allenatore che ha vinto di più, ma credo altresì come ha evidenziato Nuccolini che Menichelli sta bene sulla panchina su cui sta e non penso che sarà sostituito o non sarà sostituibile a breve perché comunque sia credo avrà molti anni per condurre l'Italia a successi che comunque li competono. Quindi i tifosi nera azzurri stanno tranquilli? Beh sì, i tifosi nera azzurri stanno tranquilli finché il patronal Barbarossa decide di tenermi e poi quando lui non vorrà più tenermi i tifosi nera azzurri saranno più tranquilli perché di sicuro il patronal Barbarossa prenderà un allenatore migliore. Dicono che il suo calcio è il più spettacolare della Serie A ma non da oggi? Non lo so, il mio primo dovere è quello di divertire il primo tifoso della squadra che è il presidente. Alla Zeman? Non tanto alla Zeman perché Zeman ha dei picchi di non equilibrio che poi mi interessano poco. Credo che il primo dovere quindi sia questo, divertire il presidente perché se il presidente non si diverte poi va a finire che non si diverte tutta la squadra. Diverto lui, diverto i tifosi che ci sono, almeno ci provo. Poi se questo spettacolo si conferma vuol dire che la conseguenza è stato un risultato positivo. Se questo spettacolo diventa fine a se stesso vuol dire che posso andare a Roma e coadjuvare le seclusio relle questa settimana. Concludiamo tornando sul derby. Dal filosofo bell'arte un aforisma per questa partita e dal bell'arte travestito da giornalista un titolo per presentare questa partita. Primo pomeriggio, dopo mangiato e dopo non aver fatto la pennichella, non penso che siano aforismi e titoli che vengono creati prima di un incontro. Credo che il titolo o l'aforisma, così come l'hai definito tu, potrà crearlo solo l'incontro e solo quello che succederà nella partita. Grazie a tutti.